Elena! Da! 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 Sta schimando! Sta che dopo rimoglie a scrivere! La cintura qua non ce la mettiamo perché... Almeno se facciamo un incidente evitiamo di soffrire! Da bravo? Da bravo! Da bravo! Ok, ok! Vai e che le! Vai e che le! Vai e che le! Noi, sta bene! Io lo soffrendo un po' russo! Noi, tu non sapevo un po' russo! Da! Da! L'itesespevo! Non, non, po' russo! Solo pa' russo! Solo pa' russo! E' da carascio, carascio, carascio. Crizzano? Da, da. Andriano, Crizzano. Andriano, da. No, 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 no. Poi datacolo! Poi che li puoi fare Poi che li puoi fare Poi che li puoi fare Poi la costa Poi attacchiamo Poi la costa Michael Schumacher! ... 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 Caraccio, Caraccio, è una brava, una brava, una brava, una brava.